E' quello che fai? Mattina presto? Tiri una bestemmia. Nell'ambiente di lavoro? Tiri una bestemmia. Ti senti arrabbiato? Tiri una bestemmia. Per quale motivo? Dai che venerdì Dio cane! Per quale motivo? E poi tu Dio non lo credi? E perché bestemi? Figa nastro! Dio porco! Se Dio non esiste, perché bestemmiare? Dai che venerdì Dio cane!